recensione dell'applicazione bilevo bilevo è un'applicazione nata credo circa tre anni fa per ampliare le possibilità di interazione con le bici assistite specialized quindi in alternativa con l'applicazione ufficiale che è mission control io la sto usando praticamente da quando è uscita la usarà sia su android che su ios in questo caso abbiamo android in questo caso abbiamo anche una batteria perché portare sulla bici diventava impegnativo una batteria di un hnevo 2018 partiamo intanto dalla configurazione ora in questo momento l'ho messo in inglese non per fare il fenomeno ma perché quando poi lei parla la voce inglese molto meno invadente della voce italiana prima cosa si va a collegare la batteria in questo caso identificata come 59 62 e questa schermata mostra quelli che sono i settaggi abbiamo un settaggio base della specialize 30 60 100 e la potenza di picco tutto a 100 velocità massima ecco con le vecchie batterie ovvero con il motore 1.2 1.3 questa applicazione permetteva anche in aree private di modificare la velocità massima consentita di 25 portarla appunto più alta però nei motori nuovi non è più possibile modificarla tramite applicazione ci sono altri sistemi che però sono un po più complessi e per quanto ne so invalidano anche la garanzia supponiamo di aver fatto un settaggio questo come ci pare qui c'è la possibilità di andare a vedere quelle che sono le caratteristiche della batteria questa è una batteria praticamente nuova ha fatto otto cariche e qui fa la differenza fra chilometri reali e chilometri fittizi perché se io avessi modificato la velocità ci sarebbe una differenza a differenza di mission control questa applicazione da effettivamente la salute reale perché mission control spesso e volentieri anche su batterie che hanno lavorato per mesi da sempre salute 100 e quindi è poco realistica c'è l'indicazione del firmware della batteria torniamo indietro allora nella pagina principale anzi siamo sempre nella pagina configurazione ci sono tante altre cose le cose più importanti qui c'è la personalizzazione del display io ho messo un display di tipo verticale perché sul manubrio lo tengo appunto in questa posizione e ho messo questa tra le varie possibilità questa qua che dopo vedremo ma ce ne sono infinite possono essere anche personalizzate appunto tutti i campi data dati possono essere personalizzati perché lo sviluppatore da quando è uscita questa applicazione ha fatto veramente tantissimi aggiornamenti uno sviluppatore molto attivo e ogni volta che fa un aggiornamento aggiunge delle credite le possibilità nuove e quindi è diventata un'applicazione a mio avviso fondamentale per chi ha una bici assistita specialized ma è anche un'applicazione molto interessante per altre bici sia non specialist ma anche non assistire perché come vedremo dopo ha delle caratteristiche di navigazione eccellenti io lo uso come navigatore ho levato tutto quello che avevo qui infatti c'è la possibilità di importare dei gpx e in questo caso un gpx di boh forse il giro di oggi no qui siamo sul monte albano comunque una volta importato il gpx poi lo visualizzerò dopo ora qui c'è un'altra voce che lo smart power e lo smart hr che sta per a trait sono funzioni molto avanzate che anch'io difficoltà un po a spiegare in pratica grosso modo lo smart heart rate una volta collegato un cardiofrequenzimetro tramite bluetooth a patto che sia ant plus come protocollo credo si chiami si imposta un valore obiettivo per cui io dico che voglio che il mio cuore lavori ha 140 battiti impostando questo limite lui quando vede che il cardio supera questo limite che abbiamo impostato aumenta l'assistenza per farci durare meno fatica così come quando stiamo abbiamo dei battiti più bassi diminuisce l'assistenza per farci salire di nuovo con i battiti lo smart power funziona in maniera analoga però si ha come parametro base la forza che il biker fa sui pedali per cui se io ho impostato una forza di 170 watt e in un momento sto facendo più fatica lui aumenta l'assistenza in modo da farmi durare meno fatica e riportare la potenza costante sono funzioni al dire il vero molto interessanti perché ti permettono di fare uno sforzo costante o a livello muscolare o a livello cardiaco configurazione della voce qui si decide cosa fargli dire io appunto ho messo l'inglese perché quando poi siccome ho selezionato solamente praticamente solo il cambio assistenza per farmi sapere il livello della batteria senza stare a guardare la voce inglese un pochino più soft torniamo indietro e andiamo a vedere quello che poi qui ci sono tutti i vari collegamenti con il canale youtube e tutto quanto andiamo al bike monitor che è la cosa che più ci interessa iniziamo un nuovo giro questa è la schermata che io ho scelto in pratica si danno un monte di informazioni la batteria lo stato della batteria del telefono l'ora del giorno se il gps è collegato la bici è collegata al motore no perché c'è solo la batteria qui la bicicletta tutta un'altra parte la potenza motore potenza del biker cioè al contrario la velocità la cadenza l'altimetria la durata del giro chilometri totali l'assistenza se appunto se ecco turbo trail e la percentuale di assistenza la cadenza media la distanza del gps e poi la porto potenza motore biker i watt ora a chilometro la quota e l'ascita totale questi sono tutti i dati che ho impostato io scorrendo in giù c'è quella cosa un pochino più interessante il discorso della navigazione ora in questo caso io ho come se l'ha visto prima impostato caricato un gpx che però è fuori zona e che qua mentre io percorro questo questo questa traccia vedrò una linea blu che è con una freggia che sono io se dovesse uscire fuori traccia a parte c'è la possibilità di essere avvisati però anche se io non avessi caricato una traccia tramite la mappa posso individuare dei sentieri per esempio questo villo che è un sentiero sul monte albano qui comune di empoli no comune dei vinci per cui posso trovare anche dei percorsi che sono stati già disegnati su questa mappa ed è veramente ben fatta scorrendo ancora più in giù ci sono anche delle altre opzioni per cui attivare lo smart power di cui parlavo prima mostra è qui diciamo c'è anche l'assistenza diciamo al volo nel senso che indipendentemente dalla modalità in cui io sono posso aumentare di uno o di cinque o al stesso modo diminuire perché magari in quel momento ne ho più o meno bisogno diciamo che queste sono un po tutte le caratteristiche di questa applicazione ma se uno va nei vari menu se ne trovano veramente per soddisfare anche più pignoli come me a dire la verità ecco a questo punto se io avessi fatto un giro potrei caricarlo direttamente su strava che è un'altra cosa molto carina assicché questo ci permette di non tenere due applicazioni accese ma utilizzare solo questo e poi alla fine lui ha dandogli l'autorizzazione da qualche parte nel menù me lo carica direttamente su strava e poi tiene tiene conto di tutte le uscite che si sono fatti al giro di ora alla fine di ogni giro oggi siamo stati a firenze a firenze free ride abbiamo fatto un monte di risalite e ci sono un sacco di dettagli per cui l'assistenza tenuta la media tutto ma veramente da togliersi qualunque voglia in definitiva è un'applicazione a mio avviso fondamentale per chi ha una assistita specialist ma non solo come dicevo prima